Si è tenuta questa mattina presso il Comune di Salerno, nella Sala del Gonfalone, la conferenza stampa di presentazione del SISAM Salerno 2023 e del Premio Sciarlò. I due eventi saranno sostenuti dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale Giuseppe Grimaldi e il Direttore Artistico del Premio Sciarlò Claudio Tortora. La 35esima edizione si terrà dal 15 al 29 luglio, presso l'Arena del Mare di Salerno, al Sottopiazza della Concordia. Il Premio Sciarlò, evento imperdibile per gli amanti del sorriso, diventa ogni anno un teatro a cielo aperto, in quanto offre la possibilità a giovani artisti di farsi conoscere ed esprimere idee, personalità e determinazione, alternando esibizioni, gag e sketch che donano allegria e buon umore. Grazie. Grazie. Grazie.